Pazzesco Pazzesco Perchè Ivan Prometella ragazzi il 95esimo sulla palla dentro di Lucio Alberto Aveva detto Calegari ha già segnato un gol di testa Un punto d'oro per la Lazio Un punto d'oro per la Lazio Un punto d'oro per la Lazio Non sto senti male Lazio che gioca Partiamo Partiamo subito, primo tempo Lazio entra bene in campo Tiene bene il campo Si vedono guizzi importanti di Luca Pellegrini Di Zaccagni Infatti la Lazio gioca prevalentemente sulla fascia sinistra E L'Atletico In porta non ci arriva mai Se non quando segna Perchè Savic Appoggia Molina Molina per Barrios Barrios prova questo tiro Era semplice Per provvedere Era centrale Ma la deviazione di Camada Lo rende Imparabile 1 a 0 Si fa male Pellegrini Entra Lazzari Spostato Spostato Lazzari sulla destra E Marosic Sulla sinistra Luis Alberto Prova Con la sua tecnica E comunque Con la sua leadership A guidare i compagni In campo Ma la Lazio non trova Pareggio nei minuti Che mancano Alla fine del Primo tempo Il secondo tempo Diciamo che L'Atletico Sale un po' di Incisività Cioè Non incisività Di Di possesso Di possesso Offensivo E Concede alla Lazio Solo le fasce Laterali Per i cross Che sapete bene I difensori Dell'Atletico Madrid Sono altissimi E Il povero Immobile Che Anche oggi Non ne ha fatta una Buona Soprattutto Sul Rilancio Sbagliato Di Oblak Eravamo tipo Al sessantaduesimo Non ricordo bene Colpo di testa Di Di Felipe Anderson Per Immobile Che calcia addosso A Oblak Ivan Provedel Si immola Sul Sul Lino Su Samuel Lino Cancella Veramente Il gol Del 2 a 0 Della Teo Madrid E La Lazio Prova Negli ultimi Dieci minuti A fare Questo gol Dell'1 a 1 Erano entrati Gendusi Gli Isaacsen Cataldi Pedro Tutti E E Un'altra grande Parata di Oblak Su Cataldi Poi Questo cross Messo In mezzo Per l'ultimo Calcio d'angolo Da Molina Il cross Di Isaacsen E poi Cataldi Batte questo angolo Sul primo palo La palla Gli ritorna Scarico Per 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 Lui L'ha già tagliato E Il Portiere Golador Fa 1 a 1 Pazzesco Pazzesco La Lazio La Lazio Strappa Un punto importante Seppur in casa Però Un inizio Accettabile Un inizio Emozioni Incredibili Lasciate un like Commentate Iscrizione al canale E qui da Daniele E E Mamma mia La Lazio Merita il parigio E la Ciofa Al 95esimo Con i propri portieri Pazzesco Pazzesco Pazzesco